E adesso esce tramite Facebook, devo dire che mi sono trovato benissimo, anche col chirurgo, molto premuroso. Adesso io, sto pomeriggio, mi hanno messo i provvisori. Sali a vedere, ok, un sorriso alla camera. Io avevo un problema molto grosso, perché ho perso tutti i denti nella arcata superiore, sicuramente per la paradontite o via di... E sono andato in Croazia, ho fatto un intervento circa due anni fa, ho fatto quattro impianti, però semimobile, quelli a bottoni, con una, diciamo, una dentiera, una protesi, semimobile. Semimobile? Semimobile, sì. Però dopo circa sei mesi, i due impianti anteriori mi si sono spezzati in due. Gli impianti? Gli impianti, sì. Sono tornato là, me li ha tolti e mi ha rimesso altri due impianti e in giro di altri sei mesi, sette mesi li ho rigettati. Perché? Li ho persi. Ah, li hai persi? Non ci sono integrati? No. E allora, quelle di dietro, sì. Quindi avanti, e allora stavo con due dietro che tenevano e avanti dovevo mettere la, come si richiama, la pasta per la protesi e avevo un disagio fuori misura perché continuavo a ballare ogni tanto mi scappavo. E poi io, siccome vado molto a ballare e mi sentivo... Comunque sei anche sempre a contatto con le persone. Sì, molto a contatto con le persone. E sono sempre, sono stato quasi un anno con un disagio. Poi ho deciso, ho detto a mia moglie, provo. Se va bene è bene, se non va bene sarà... Sì, è comunque una cosa che praticamente ti sta per cambiare la vita. Sì, sì. Perché anche mi hai detto che sei un istruttore di ballo, che balli, quindi comunque sempre essendo in movimento, sempre in contatto... Sì, sì, questo ho sempre a contatto con le persone. Quindi è una cosa importante. Sì, sì. Anche se loro non te lo danno a vedere perché sono degli amici più che... Sì. Eh, però c'è sempre quel disagio. Poi il disagio di non poter sorridere, diciamo, è uno dei disagi, quelli che ti... Si, ti blocca. Sì. Ti bloccano di più. Anche perché io sono una persona molto allegra, molto sorridente. Io sono il burlone, diciamo. Mi piace ridere e scherzare. Molte volte non posso scherzare perché ho sempre... Comunque il coso che si muove è... Quindi era proprio... E non potevo sempre stare con la pastina. Ti metti in colla.